Tante facce nuove e altre molto meno e così anche il nuovo Consiglio Comunale di Arezzo si è insediato. La politica, si sa, si fa con le idee e con i numeri e allora, alla luce anche di quanto è accaduto con il gruppo Fratelli d'Italia, che si è sentito espulso dalla maggioranza, vediamo come cambiano i vari equilibri. Tra i banchi appunto della maggioranza a questo punto si edono i sette consiglieri della lista Oraghinelli. Giovanni Romanini, Donata Pasquini, Angelo Rossi, Angiolino Piomboni, Giovanni Bonacci, Mary Stella Cornacchini e Cesare Bircolotti. Sei i consiglieri di Forza Italia, Roberto Bardelli, Alessio Mattesini, Luca Stella, Jacopo Apa, quest'ultimo capogruppo, Leonardo Benigni e Federico Scapecchi. Cinque quelli della Lega Nord, Egiziano Andreani, Tiziana Casi, Alessandro Casi, Domenico Chizoniti e Marco Casucci, anche consigliere regionale. In tutto farebbe diciotto. Il gruppo Fratelli d'Italia a questo punto sarebbe da considerare tra la minoranza e quindi vedremo Francesco Macri e Giovanna Carlettini come si comporteranno. Nove i consiglieri del Partito Democratico, Matteo Bracciali, Giuseppe Pasquale Macri, Alessandro Caneschi, Luciano Ralli, Elisa Bertoli, Barbara Bennati, Claudia Maurizzi e Donato Caporali e Paolo Sisi. Uno, quello di Arezzo in comune, Francesco Romizzi. Due, i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Massimo Ricci e Paolo Lepri. In tutto farebbe 14. La maggioranza di Alessandro Ghinelli può dunque sempre contare su quattro voti in più che con quello del sindaco fanno cinque. Certo, i consiglieri della maggioranza non potranno permettersi tante assenze. Intanto il sindaco comincia ad esprimersi su una delle questioni più spinose, l'arrivo di nuovi migranti. Sui migranti come si porrà? Ne accoglieremo altri? Ma io non è che ho posto il veto, ho fatto semplicemente rilevare al prefetto uscente e ne ho riparlato anche con la dottoressa Guidi appena arrivata, del fatto che Arezzo, per usare un'espressione, ha già dato, nel senso che abbiamo già un numero elevato di migranti, se confrontati con altre realtà comunali vicine che percentualmente hanno molto meno di noi come accoglienza. Quindi l'invito, non può essere altro, alle prefetture di tener conto di questi numeri che ormai si sono determinati e quindi di convogliare i nuovi arrivi su altri comuni. Ovviamente è disponibilissimo a parlare su tutto, ma vorrei capire un po' meglio quali sono i criteri con i quali vengono affidati.